E' finito ragazzi, passa al Marocco, passa al Marocco, che squadra, che cuore, Luis Enrique ti sta bene, mezzo allenatore, mezzo allenatore, parli tanto, di fatti veramente pochi, lui parla e basta, di fatti c'è l'allenatore del Marocco, Walid, non mi ricordo il cognome comunque, che allenatore del Marocco, al contrario di un Luis Enrique imbarazzante, mille passaggi fatti dalla Spagna, dato di fatto. Più o meno stati mille passaggi fatti, contro il 200 del Marocco, ragazzi, vince la squadra marocchina, strano, elettatamente passa al turno, questa Spagna che non mi ha mai convinto dall'inizio del Mondiale, un Marocco che di cuore, di cuore ragazzi, Asha Fakini, ragazzi, fa il gol decisivo, questo Marocco è nato di fare, ha un cuore, un'anima spettacolare, in quattro partite ha subito solo un gol e se l'è fatto da solo, un autogol contro il Canada, Nell'altra partite, tre clean sheet contro Belgio, Croazia e Spagna, in 120 minuti, una Spagna imbarazzante, un Marocco strepitoso, fase difensiva eccellente, ha avuto più occasioni della Spagna, e strameritatamente passa al turno, è veramente incredibile ragazzi, incredibile, sono veramente felicissimo, entro nella storia del Marocco, e se lo merita, se lo merita, se lo merita, tutti i dachi, mia zia, con una squadra speciale, Saiz, il capitano Saiz, i difensori a Gerd, che ha tenuto fino all'ultimo, Saiz con mezza gamba, ha giocato gli ultimi mezz'ora, ma ha giocato per il cuore, per la sua squadra, Bono, Bonu, non può dire che il ragazzo è sempre ammirato, para due rigori su tre, e manda la Spagna a casa che ne sbaglia tre su tre, e il roraccio a quelli due serichi che manda in campo, Sarabia, solo per tenere la rigore, e lo sbaglia, sbaglia anche Carlo Soler, superentrato anche lui nel secondo tempo, sbaglia anche Busquets, invece di dare ragazzi tutti, tutti abbastanza bene, a parte l'entrato lì, il difensore che l'ha sbagliato, però ragazzi, godo, 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 veramente, diciamo che, ha avuto più occasioni il Marocco, che ha partito bene con Mastraoui, che partita ha fatto Mastraoui, uscito per, perché ragazzi era completamente finito, visto che ha fatto una partita incredibile, avanti, indietro, avanti, indietro, e tanta tanta roba, ha frasferato anche il gol, bravo invece di Unai Simon, che dire, subentrato, che dire nella ripresa, però si è mai stato un gol pazzesco, gli ragazzi, il devi fare, se è tornati nel Bari, deve fare i gol lì, la Spagna ragazzi, al 120, il gioco fanno un palo clamoroso con Sarabia appena entrato, e poi ragazzi sarà l'uomo che sbaglia la prima calcio di rigore, e la Spagna ha altre due occasioni, basta, una su punizione, grande parte di Bono, e una ragazzi nel primo tempo con Asensio, che si mangia un gol pazzesco, tutto per tutto col portiere, esterno della rete, invece il Barocco ragazzi, anche altre occasioni, con uno Ziyech spettacolare, come gioca il Barocco nello stretto, non gioca nessuno, nello stretto sono la squadra più forte del mondo, secondo me, nello stretto, Ziyech a Kim pazzeschi, ma Bufalo, la parola di Bufalo, e Neskiri forse un pochino in Umbra, però ragazzi è che la difesa, Amrabat, Amrabat, giocatore meraviglioso, quasi un momento miglior centrocampista del mondiale, a mani basse, un motorino, recupera tutti i palloni, non si è fatto saltare una volta un giocatore fenomenale, questo momento vale 50-60 milioni, la Feltina ha in mano un talento puro, un mostro a centrocampi, un mostro, godo ragazzi, forza Barocco in questo mondiale!